Gentili telespettatori, buona giornata. Più di 2 milioni di famiglie vivono sotto la soglia di povertà, sotto quella stipendio che viene definito comunque da poveri. Sono oltre 5,6 milioni le persone che vivono in una famiglia che racimola meno di 640 euro al mese e secondo l'Istat questa tendenza è in crescita. Più di 2 milioni di famiglie, quindi 5,6 milioni di persone. Stiamo parlando di quasi il 10% degli italiani che vivono in una famiglia dove c'è un'entrata di meno di 640 euro al mese. È incredibile, una persona su 10 in Italia vive in una famiglia con meno di 640 euro al mese. Circa 2 milioni, vi dicevo, 5,6 milioni di soggetti che vivono dentro queste famiglie. È il 7,5% delle famiglie italiane e il 9,4% delle persone residenti, cioè il 10% degli italiani è in povertà. È una dimensione questa assolutamente importante, considerevole, ma la cosa preoccupante è che questi dati sono in peggioramento, non sono in miglioramento. Sono fortemente cresciuti negli ultimi anni le persone in condizioni di povertà. E questo, dice l'Istat, è assolutamente allarmante con la voce di Giancarlo Blangiardo, che è il presidente dell'Istat, che lo racconta nella trasmissione Progress su Sky TG24. Parla di, Blangiardo dice, la crisi energetica, la crisi internazionale, l'inflazione, dice, in termini di tendenza, la crescita a inizio dal 2011-2012 è una decina di anni che la tendenza purtroppo è in crescita. C'è stata un'accentuazione nel 2020, anno del Covid, e nel 2021 abbiamo avuto una relativa stabilità. Quest'anno abbiamo la sensazione che qualche misura, come ad esempio l'effetto l'assegno universale, è valsa a non eliminare, ma a contenere o ridurre leggermente l'effetto povertà, soprattutto in quelle situazioni. Mi riferisco alle famiglie con figli che più direttamente vivono la condizione di disagio. Ci sono state altre 85.000 richieste dall'inizio dell'anno fino ad oggi, richieste di aiuto che hanno portato così a 1.750.000 il numero delle persone che il Banco Alimentare sta aiutando, dice Bruno Giovanni, presidente della fondazione Banco Alimentare Omlus, intervenendo al programma su Sky TG24. Il caro energia, le aziende sono in difficoltà anche a donare cibo e fondi, come facevano prima. Per noi diventa ancora più importante il contributo del privato cittadino, come sta avvenendo oggi. Per noi c'è stato un aumento dei costi di gestione del 45 e il 30% di donazioni in meno, ma non perché le aziende non vogliono aiutarci, ma perché si trovano loro stesse in difficoltà e stanno aspettando un aiuto da qualcuno. Aggiunge, c'è bisogno dell'aiuto di tutti. Aggiungo, dice che il discorso della povertà sta toccando fasce che prima non erano affette dal problema e ambiti più vicini a quelle che prima era la normalità. Penso a studenti fuori sede che, dovendo pagarsi l'affitto, hanno bisogno di aiuto per mangiare. E famiglie che prima non avevano questo problema, mentre adesso sì. Abbiamo un impatto molto forte in termini di costi perché non tutti immaginano che insieme al cibo servono i mezzi e le attrezzature per conservare e consegnare gli alimenti, con costi significativi. E certo, naturalmente l'inflazione colpisce anche i mezzi per trasportare gli aiuti. Pertanto, dice, le aziende non donano più neanche le eccedenze perché anche loro cercano di non avere eccedenze di controllare bene quello che è la produzione industriale e alimentare. Beh, naturalmente, come vi ho sempre detto, nonostante ci sia un pillo in crescita, abbiamo visto che gli stipendi ormai sono insostenibilmente bassi, da fame, da sfruttamento del lavoro. L'Italia non vuole mettere il salario minimo che sarebbe cosa di grande, grandissima civiltà. Quindi il potere d'acquisto degli italiani cala. Molte famiglie passano da una situazione di classe media a una situazione di povertà relativa, senza rendersene conto. Persone che non hanno mai avuto problemi a mangiarsi una pizza, a comprarsi la macchinetta nuova, a farsi la vacanza d'estate, si ritrovano improvvisamente che la vacanza non c'è più, la macchina non si compra più e difficoltà a pagare anche le bollette. Quindi via pizza, via tutto, si entra in difficoltà e quando si comincia a non pagare anche una sola bolletta o a ritardarne il pagamento significa che evidentemente si è entrati in una sorta di povertà relativa. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro un buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Grazie a tutti, arrivederci a presto e questo video come avete visto è un video registrato, io adesso che in questo momento che voi state vedendo il video sono fuori sede e pertanto mi vedete qui a giacca e cravate, magari in un altro video mi vedete in un altro tipo di ambientazione. Comunque vi ricordo che c'è anche Teleitalia Seconda Rete che probabilmente in questi giorni che sono fuori sede ci saranno meno video o quasi nessun video, però vi consiglio comunque di andare a vedere anche Teleitalia Seconda Rete se non lo conoscevate, è un altro canale mio dove ci sono sempre io e poi ci sono anche altri due canali Teleitalia in cucina con Carla e Teleitalia Seconda più che altro si chiama Tutorial Uncinetto con Carla, Carla con la K, sia in cucina con Carla che con l'altro. Poi tutti questi video, sono i canali di mia moglie quelli, tutti questi video poi sono condivisi dopo qualche ora nella pagina di Facebook che si chiama Teleitalia. Grazie a tutti per avermi ascoltato e buon proseguimento di giornata e ci vediamo presto.